E salve a tutti i bisicoperiani e bentornati in questo nuovissimo video su Insurgency Sandstorm Sto vedendo che comunque vi piacciono i video di Insurgency, sono molto contento che, diciamo, in questo canale va praticamente più Insurgency di Tarkov Finalmente, era l'ora, bravi, faccio... bravi, era l'ora E come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il codice di conto per i vostri server DigiPortal in caso non volete comprare uno E niente, quindi andate in descrizione In più, visto che ho Starlink, posso fare le live, infatti sarò in live tutti martedì, giovedì e sabato dalle 16 alle 19.30 E con i giochi poi vediamo un pochettino che cosa mi va in quel momento Però se vi va di passare in descrizione trovate anche il link Ovviamente mi farebbe molto piacere se... se... aia Mi farebbe molto piacere se vveniste Almeno stiamo un po' in compagnia, visto che ho sempre voluto fare stream al posto di video Ma la connessione non me lo permetteva, adesso posso In più, Ping adesso ha 44, 48, 44 e sono con Starlink E' migliorato negli ultimi giorni come Ping Probabilmente da 60-70, anzi diciamo da 60-80 E' passato a 36-45 più o meno E quindi sono molto molto contento Ora io questa mappa sinceramente l'odio un pochettino Comunque In descrizione Se passate trovate tutto quello che vi serve Stalker Guarda quella strada Guarda qui Esatto Oh Ma... Ma porca troia Ma tutti a cazzo... Vedi? Odio perché stanno tutti a cecchinare, porca troia Signor Rex No, faccio... C'è qualcuno lì? C'è qualcuno qua? Arriva Ma porca troia Dal nostro spawn in alto Ancora Già da prima mi sparavano da là Che erano d'altro edificio Mortacci De Vippo Io ho le mappe open Non sono un grande fan Ok, il mio compagno Sentivo No, è troppo vicino per essere il mio compagno Che lo sento così bene Dai C'è qualcuno qui a sinistra Eh sì Ok Ok Bastare che hanno flancato così tanto No, quello che copre le spalle al compagno che campera cecchinando Cioè quello che copre le spalle sono due a cecchinare Così funzionano le cose Maremma Non è un problema Vabbè porca troia Zio De una sega Col 7 per questo Si è girato E bravo Ok Fai solo questo Nella vita Io no Si vede Io no e si vede Io no e si vede Oh errori di lete In realtà Di lete Errori di acqua lete Sto aspettando La cecchinata Di qualcuno Anche se vorrei Essere io a farla Do cazzo Porca dio Vabbè O Checchia Ac bottle A Mal Checchia A Dove sei? Scusami Scusami Ok In quella partita di prima c'è poco da dire C'è veramente poco da dire la partita di prima Speriamo meglio adesso Ah l'altro sdraiato lì Rattone Vabbè non è vero Zio ma Vabbè Ok Io premo sempre C per abbassarmi quando c'è TRL Sta cosa non la Non la farò mai per bene Losing bravo da lì Porca trottola Porca trottola Ok Ok Dove? È in fondo di là Ecco lo sapevo Quello lì alla finestrella Non ci va? Maremma Maremmina Allora Dai Un tempo a mirare Signor santa Nivelo 470 contro Ok Ok No è niente È niente E ci andiamo in alfa Ci andiamo C'è uno qui Oh shit We're losing bravo Fuck They took bravo E ci andiamo in alfa Ok E niente Boia Ma Lonnie Badger Fa Mina così Quando lo uso io Non è che Tira queste mine Vabbè che mi prende sempre in testa Totomi Però cazzo Ma Rocco boia Questi si beccano tutti in testa Con dei Colpi assurdi Non è vero L'abbiamo visto tutti Che il cazzo di colpi È andato nella fa L'abbiamo visto tutti Il puntino Sulla sua faccia Alla fine L'abbiamo visto tutti Foto finish È da fare Mi avrà visto Ma Non l'ho visto Ma scusami Ok Stiamo in liberando Vabbè Vabbè Come è uscito In 3 Si stava sparando Anche in prefire Kamadoska Guarda quello Guarda quello Guarda quello Guarda quello Io non so Che cazzo Sento Che mi cammina vicino Vabbè Attenzione Via 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 Ok Ok Ho visto questo L'ho visto No vabbè Un altro sopra A controllare Oni badger Tutti i coloni badger Contro Usate Armine diverse No Via 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 Ah c'è un compagno Lì Nevermind Nemici di sopra Ci sono Manda su Manda su Manda su Mà 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 Ok Ok Mà 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 Troia Urca Vai 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 Tutti a destra sono Raga Mi sa So che Non mi potete Sentire Ma Con la forza Del pensiero Si Ok Qualcun altro Beh Da sinistra Mi sa che Arriva Qualcuno Stallo Ok Merda Eh niente Tanto Ero sicuro Che avrei finito I colpi Ok 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 Tanto 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 stiamo Vincendo Comunque A mani basse La mappa di prima Fa cagare A mani Bassissime Madonna No Tirato Malissimo La fumogena Link Charlie Va bene Va bene Round 1 Vittoria Yeppi Sì Round 1 Vittoria Tanto c'è solo Un round Dai Questa è andata Decisamente Molto meglio Di prima Almeno Un po' normale Non con tutti Che camperano Con il cecchino Comunque Inanti Siamo arrivati Ai nostri 20 minutini Signori Più o meno Quindi se questo video Vi è piaciuto Ovviamente lasciate Un bel like Vi ricordo di andare In descrizione Per Gportal Ma soprattutto Anche per Twitch Così almeno Lì sempre Appuntamento Fizzo Martedì Giovedì Sabato Dalle 16 Alle 19 E 30 Stiamo in compagnia Giochiamo a qualcosina E Ah in descrizione Anche il link Per il discord Di Insangersi Sandstorm Italia Dove c'è anche Il serverino Che io ho offerto Adesso è 32 slot Quindi insomma Andate lì E vedete un po' Come viene sfruttato Quindi signori Niente A noi ci si vede Nel prossimo video E alla prossima Ciao 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 ciao